La prima volta che ho sentito parlare di Bolca ero all'università e il professore ci raccontava che sui Monti Lessini c'era un paesino famosissimo per i suoi pesci fossili, un sito di importanza internazionale, dove in questi fossili potevamo trovare persino le tracce della pelle. A me a nome Monti Lessini venne subito in mente un paesaggio montano chiaramente con il pesino di Bolca incastonato tra le montagne. Adesso invece da paleontologa penso ogni volta che penso a Bolca in realtà penso al mare. E non un mare qualunque ma un mare tropicale. Immaginatevi di poter viaggiare nel tempo e di tornare indietro di 48 milioni di anni. Vi trovereste immersi nelle acque di un mare caldo e pieno di vita oppure a camminare su una spiaggia popolata da foreste di mangrovie. È il classico paradiso terrestre che sono sicuri tutti noi almeno una volta nella vita vorremmo visitare. Questo posto così esotico, così lontano da quello che è oggi il nostro territorio era proprio qui a Bolca. Ma come facciamo a sapere che in passato qui a Bolca c'era il mare? Come facciamo noi paleontologi ad esserne sicuri? La prova innegabile sono i fossili. I resti di organismi che oggi non esistono più e che sono racchiusi all'interno delle rocce che formano le montagne. Questi fossili sono eccezionalmente preservati e questo lo sanno tutti i membri della comunità scientifica. Perché qui riusciamo a trovare anche i resti di quegli organismi che sono detti a corpo molle, ovvero che non hanno uno scheletro o delle conchiglie che sono dure e mineralizzate. E proprio qui riusciamo a trovare per esempio gli insetti, molluschi come le stelle marine, oppure le piante e nei vertebrati come i famosi pesci di Bolca riusciamo a trovare anche i resti della pelle, della pigmentazione, degli organi interni e degli occhi. Ma voi vi chiederete ma i fossili sono tutti così? Ovviamente no. Nella maggior parte dei casi i fossili sono formati da resti di parti dure, quindi gli scheletri, le ossa, i denti e le conchiglie. E queste di solito hanno una preservazione che si dice bassa, perché sono appunto frammentate ed incomplete. Infatti la documentazione paleontologica, il registro fossile, è proprio definito incompleto. Ma perché è incompleto? Perché prima di diventare un fossile la carcassa deve trasformarsi in un fossile, veramente. Ma come si fa a diventare un fossile allora? Il problema qual è? È che appena dopo la morte quello che avviene è che tutte le cellule che compongono in un organismo si decompongono, letteralmente entrano in autodistruzione. E lo scheletro, se l'organismo ne aveva uno, anche si disarticola, perde di coesione e quindi iniziamo a perdere informazioni. Ovviamente dobbiamo considerare anche tutti quegli organismi che si cibano delle carcasse, come per esempio appunto gli avvoltoi. Questi possono mangiare le carni e distruggere le parti molli e possono anche disperdere le ossa. Poi abbiamo gli agenti atmosferici anche che sono oggettivamente importanti, hanno un impatto sui resti di animali e vegetali, li trasportano, li frammentano, li distruggono. Ma se fosse un fossile già formato dentro una roccia sareste al sicuro? Ovviamente no, perché a quel punto una serie di processi geologici potrebbe cancellarvi completamente dalla faccia della Terra. Capite bene che quindi per diventare un fossile serve un pizzico di fortuna, come pure serve un pizzico di fortuna per ritrovarlo nelle rocce. Per darvi un'immagine visiva di cosa significa questa costante perdita di informazioni, qui vedete una rappresentazione di un ecosistema marino del passato, basato sui ritrovamenti che sono effettivamente stati fatti sul terreno. Attenzione però che dello squalo abbiamo trovato solamente un singolo dente, non il corpo intero, solo un dente isolato. Dei coralli potremmo aver trovato tantissimi piccoli frammenti e dei pesci stessa cosa, potremmo aver trovato delle scaglie isolate oppure delle ossa, magari delle vertebre se siamo stati fortunati. Ovviamente questi sono i fossili comunque importanti perché ci dicono che stiamo effettivamente osservando i resti di un ecosistema marino, ma le informazioni a livello di biodiversità di questo ecosistema sono estremamente limitate, perché è limitato il nostro dato sul fossile. Se invece lavoriamo con un sito fossilifero eccezionale, come quello per esempio della pesciara di Bolca, la situazione cambia completamente, perché qui come vi dicevo prima abbiamo i resti anche di quegli organismi che effettivamente sono formati solo da parti molli e qui li troviamo nei fossili. Come succede questo processo? Succede che quando le carcasse qui a Bolca o alla pesciara si sono depositate, si sono depositate su un fondale povero di ossigeno e sono state ricoperte da un sedimento finissimo che ha fatto sì che tutti quei processi di decomposizione fossero drasticamente rallentati. Questo ha fatto anche iniziare tutta una serie di processi chimico-fisici sulla scala del tempo geologico che hanno letteralmente trasformato i tessuti molli, le componenti cellulari e molecolari originali in qualcosa di stabile, in un materiale resistente al trascorrere del tempo e così si sono preservati fino ad oggi. Ognuno di questi fossili ha quindi una storia incredibile da raccontare che ci fa da ponte tra il passato, il presente ma anche il futuro del nostro pianeta. La storia che vi racconto oggi ha come protagonista un pesce luna di 48 milioni di anni che noi abbiamo deciso di chiamare Teddy in onore in realtà di un altro pesce luna che è diventato abbastanza famoso grazie ad un film della Pixar. La specie in questione si chiama Menerombea ed è una specie iconica delle faune di Bolca con centinaia di esemplari che sono stati ritrovati ed oggi sono conservati in tantissimi musei sia italiani che stranieri. La cosa interessante di questa specie è che in realtà il genere Mene, che fa parte della famiglia dei Menidi contiene oggi una singola specie vivente che vive nell'oceano Indo-Pacifico. Qui vedete un esemplare come esempio. Questa specie si chiama specie maculata e la riconosciamo grazie a questo caratteristico aspetto maculato del dorso da cui deriva il nome specifico ma anche dal caratteristico corpo appiattito e da queste pinne lunghe e sottili sul ventre. Di questa specie conosciamo le modalità di vita e la dieta ovviamente, sappiamo che vivono in banchi quindi in gruppi e si cibano di piccoli organismi, piccoli invertebrati come molluschi e crostacei che vivono sui fondali poco profondi lungo le coste di tutti questi continenti che si affacciano sull'oceano Indo-Pacifico. Ora la cosa interessante di questa famiglia di pesci luna è che da un punto di vista scheletrico si assomigliano tutti moltissimo. Infatti per molto tempo pensavamo, noi paleontologi, comunque gli esperti che si occupano dello studio di questa specie in particolare, pensavano che anche le specie del passato, quindi quelle ormai estinte, avessero le stesse abitudini di vita, la stessa dieta e perché no anche l'aspetto esterno uguale o simile a quella della specie del presente perché letteralmente è impossibile distinguerle a livello scheletrico. Ma è proprio qui che invece è arrivato Ted, il nostro pece luna, che ha sconvolto un po' tutti noi in realtà quando è stato scoperto e abbiamo iniziato a studiarlo, perché ci ha cambiato completamente la prospettiva dell'evoluzione di questi pesci. E ve lo dico sinceramente che Ted è uno degli esemplari meglio preservati dal punto di vista sia scheletrico ma anche dei tessuti molli, come potremo vedere presto sulla slide. Come potete vedere lo scheletro è completamente preservato, è completo, tutte le parti sono lì, però vedete anche che c'è molto materiale scuro, di colore nero, che fa il contorno del corpo di questo pesce. Questo noi paleontologi lo chiamiamo materiale organico o materia organica, che già suggerisce che è qualcosa di intrinseca del fossile, che potrebbe essere originale di quando il fossile era ancora un pesce in vita. Quello che a me ha catturato in particolare è stato proprio il contorno del corpo, che appare come una patina di colore scuro sul dorso, che poi schiarisce in tonalità più chiare sul ventre. Ma non è tutto, perché nella parte del dorso troviamo anche delle strie che vanno dalla testa alla coda e che sono chiaroscure. Questo già vi fa vedere che in realtà questo pesce avesse probabilmente una livrea striata e non maculata come quella della specie attuale, quindi c'è già una bella differenza. Poi se continuiamo a osservare il fossile vediamo anche che ci sono un'abbondanza di strutture, sempre formate da questo materiale organico nell'addome. E anche qui l'addome è una zona estremamente interessante da un punto di vista biologico, tutti gli organi vitali sono all'interno dell'addome. E così ho deciso di studiare questa parte un pochino meglio. E proprio mentre mi trovavo al Museo di Storia Naturale di Verona e stavo utilizzando un microscopio ottico, proprio mentre guardo la pancia di Ted noto un agglomerato di piccole scaglie e piccole vertebre, tutte disarticolate tra loro, ma raggruppate in una zona specifica della pancia di Ted, quella dove io mi aspetterei di trovare i resti dello stomaco. Grazie alla collaborazione con il professor Giorgio Carnevale dell'Università di Torino abbiamo capito a chi appartengono questi resti disarticolati, ad una sardina letteralmente. Quindi quello che io stavo osservando in quel momento erano i resti parzialmente digeriti all'interno dello stomaco di un pesce luna di 48 milioni di anni che è vissuto in un mare tropicale che per oggi è fossilizzato sui Monti Lessini. Ma qui l'informazione importante è anche proprio quello che implica, perché fino in quel momento nessuno nella comunità scientifica, nessuno nel mondo aveva mai osservato il contenuto dello stomaco di un pesce luna fossile. Non avevamo mai scoperto qual era la loro dieta, mentre oggi la sappiamo e questa cosa l'abbiamo scoperta studiando un fossile di porca. Ora ovviamente a me rimaneva da chiarificare un pochino meglio cosa è questa materia organica, perché sicuramente tra di voi nel pubblico ci sarà chi pensa, sì ma come facciamo a sapere che questi sono resti organici di un fossile di 48 milioni di anni? Come facciamo a sapere che quella è veramente la pelle? Allora cosa ho fatto? Ho campionato, quindi ho prelevato un piccolo campione dal dorso, dall'addome e dall'occhio. Questo è un millimetro quadrato di materiale, pochissimo materiale, e l'ho analizzato al microscopio elettronico a scansione, che è un potentissimo microscopio che ci permette di osservare oggetti ultramicroscopici. E poi ho fatto delle analisi chimiche specifiche per cercare di caratterizzare un pochino meglio a livello molecolare eventuali molecole biologiche preservate. Quello che ho scoperto al microscopio elettronico è stato questo, una miriade, un numero incalcolabile, di questi oggetti tridimensionali, ovoidali, con una lunghezza di circa un micron, che significa un millesimo di millimetro, qualcosa di piccolissimo. Le analisi chimiche mi danno come risultato una macromolecola, un pigmento, un polimero, che ha la stessa struttura molecolare di un pigmento che noi oggi conosciamo molto bene, la melanina. Quindi quello che io stavo osservando qui sono degli organelli cellulari fossilizzati, che vengono chiamati melanosomi. I melanosomi fossilizzati non sono più una novità nella paleontologia, sono stati in realtà scoperti più di un decennio fa, ma noi continuiamo a studiare proprio la loro evoluzione, a livello di quali organismi ne avevano in passato e che tipo di funzioni questi potevano ricoprire. I melanosomi noi li abbiamo oggi per esempio nei nostri capelli, nei nostri occhi, nella nostra pelle, e qui producono una varietà di colorazioni. Nel mondo animale, per esempio, soprattutto nei vertebrati, producono il nero, il marrone, il giallo, l'arancione, anche alcune tonalità di blu. Questo significa però allora che se noi troviamo questi organelli fossilizzati nella pelle di un fossile, noi possiamo ricostruire o avere un'informazione, un dato diretto sulla loro colorazione originale, sul loro aspetto esteriore. Ma non è tutto, perché i melanosomi oggi sappiamo sono anche interni, e ve lo dico perché io stessa ho fatto degli studi su di questi. E sappiamo che sono all'interno degli organi, come il fegaso, oppure il cuore, i polmoni, la milza, i reni, e qui hanno di nuovo funzioni protettive. Ma la cosa interessante è che hanno delle geometrie e una chimica specifica, a seconda dell'organo in cui vengono accumulati. Quindi significa che se noi troviamo questi melanosomi fossilizzati nell'addome, per esempio di un pesce fossile, possiamo ricostruirne anche l'anatomia interna e non solo il colore. E infatti questo è quello che siamo riusciti a fare proprio con TED. Abbiamo identificato vari organi ancora preservati grazie alla preservazione dei melanosomi. Ora c'è da mettere insieme un po' tutto queste informazioni e cercare di interpretarle sulla base di quello che noi sappiamo però delle faune a pesci di oggi. E per esempio le strie longitudinali noi le troviamo in quei pesci che nuotano insieme, che quindi formano un banco, un gruppo, e però vivono nello specifico in acque aperte, quindi in quegli habitat, in quegli ambienti che sono poveri dei punti di riferimento, cui singoli individui riescono ad orientarsi nello spazio proprio grazie alle strie longitudinali presenti sul dorso del proprio vicino. Inoltre un motivo striato lo vediamo nello specifico in quelle specie di pesci che mangiano altri pesci e che quindi si dicono che sono piscivore. Ora se voi vi ricordate un po' quello che vi ho raccontato oggi, queste sono le stesse identiche informazioni che abbiamo osservato su TED. Quindi significa che i pesci luna di Bolca erano finemente striati, come aspetto esteriore, vivevano in banchi ma in acque aperte, poi nuotavano verso la costa per nutrirsi di piccoli pesci come le sardine. Però allora, se ricapitoliamo ancora un po', significa che nell'arco di almeno 48 milioni di anni i pesci luna sono cambiati, non sono rimasti uguali a se stessi. Ma perché questa cosa ci interessa? Perché sono qua a parlarvene? Perché il registro fossile della famiglia dei Menidi ci dice che sono esistite molte più specie in passato, che oggi si sono estinte e sono vissute in tutto il Mar della Tetide, che è l'antico mare che ricopriva gran parte dell'Europa durante il Cenozoico, l'era geologica che si è susseguita subito dopo l'estinzione dei dinosauri. Ora, quello che sappiamo oggi è che questa specie, la specie del Mene Maculaca, quella attuale, è l'unica superside e vive però in un ambiente molto ristretto dei nostri oceani, non la troviamo in tutti i nostri oceani. E questo andamento lo abbiamo osservato in altre famiglie di pesci che si sono evolute proprio durante il Cenozoico, che in realtà è stata un'era geologica molto tumultuosa da un punto di vista di cambiamenti a livello di movimenti tettonici e di ristrutturazione degli habitat marini. Questi cambiamenti sono parte integrante della vita del nostro pianeta, non ci possiamo fare niente, succederanno anche in futuro. Quindi significa che dobbiamo avere più strumenti possibili per cercare di capire, quantomeno, come potrebbero andare le cose in futuro. E tra questi strumenti abbiamo lo studio dei fossili, abbiamo la documentazione paleontologica dalla nostra parte. Ovviamente quello che è certo è che della specie della famiglia dei pesci luna, solamente una specie oggi è sopravvissuta a tutti questi cambiamenti, ma oggi sappiamo per concertezza con un dato scientifico che ci sono stati degli adattamenti, ci sono stati dei cambiamenti con adattamenti a nuovi habitat di vita, a una dieta e c'è stato anche un cambiamento della livrea, dell'aspetto di questi pesci. E nello specifico noi sappiamo molto bene come questo accade, accade grazie a specifiche mutazioni genetiche e nello specifico conosciamo bene quali sono i geni e quali mutazioni questi causano per portare una livrea striata ad una maculata. Questo però cosa ci dice allora? Che gli stessi identici meccanismi genetici sono successi anche in passato e questa non è più un'ipotesi, abbiamo le prove dirette oggi con i fossili di Volca. Questo per dirvi quanto sono importanti gli studi paleontologici, perché è ovvio che lo studio del presente ci aiuta ad interpretare il passato, ma è lo studio del passato che ci dà la forza e ci dà tutte le carte in regola per cercare di capire come andranno le cose in futuro. Grazie.